avete visto quanti animali? sono belli vero? guardate guardate allora ci abbiamo il babbao il cane, il criceto, il papagallo, due gattini e un piccolo cagnolino guardate che bello hai bacini? guardate che bello ciao bambini poi facciamo vedere il gatto vieni accennilo dai bacini? guardate che bello miau 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 facciamo vedere l'altro gattino allora questo si sente più forte a confronto all'altro gatto guardate che bello guardate che bello dai bacini guardate ciao 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 mi saluto anch'io ciao 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 mamma miau 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 ciao bimbi ciao un bacio ciao 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 ciao! Mua! Ciao! 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 Se vi piace questo video, lasciate un like!